Buongiorno a tutti, sono Petrini Davide, come Aiman mi occupo della sezione manutenzione e distribuzione, in più sono anche referente per quanto riguarda la regione Piemonte e Valle d'Aosta. Per il trentesimo congresso nazionale Aiman, quello che voglio dire è che la reputo un evento a dir poco eccezionale per quanto riguarda la manutenzione a livello italiano, dove comunque si possono incontrare manutentori, direttori di stabilimento e discutere tutti assieme di tutti i problemi che si possono avere durante le nostre giornate lavorative molto impegnative. Per me la manutenzione, essendo io un distributore di materiale meccanico per l'industria, è un valore che è aggiunto a quello per la qualità dei prodotti che in Italia noi distribuiamo anche all'estero. Noi cerchiamo sempre di stare al passo con i tempi e di cercare di sviluppare al meglio tutte le migliori tecnologie che la tecnologia può ovviamente offrirci oggi. Grazie a tutti.